Non un fine settimana da ricordare quello di inizio dicembre per l'Albaronco. Si parte con una sconfitta pesante rimediata sul campo di Minerbe della prima squadra, militanti in seconda categoria. Il risultato di 5 a 1 in favore dei padroni di casa non aiuta e verde granata ai fini di un miglioramento in classifica. Forse è il caso di parlare di crisi per gli uomini di Mister Burato. Negativa la prestazione anche degli juniores, che in casa subiscono una sonora sconfitta per 1 a 4 in favore dell'isolarizza. A sottolineare il brutto risultato si aggiunge anche una brutta espressione di gioco nell'arco di tutta la gara. Domenica mattina gli allievi invece portano a casa l'unico risultato positivo della settimana e rafforzano la terza posizione in classifica. Poker per i giocatori ronchesani contro l'isolarizza, che sono comunque riusciti a mettere a segno due reti in casa dell'Albaronco. 4 a 2 il risultato finale. I giovanissimi rimediano una sconfitta per 4 a 1 in territorio pianese. A discapito del risultato, gli uomini di Mister Rossetto hanno comunque mostrato una bella prestazione, soprattutto dal punto di vista del gioco, squadra in miglioramento. La scuola calcio invece porta a casa una vittoria e una sconfitta, rispettivamente per gli anni 2003 e 2002. In amichevole contro il Chilognola ai Colli, i 2004 dilagano, vincendo due tempi e pareggiandone uno, per un risultato finale di 8 a 1. Gli esordienti e i Pulcini 2005 non hanno giocato. I primi per riposo, i secondi causa maltempo. Alla settimana prossima per i risultati dell'Albaronco.